Non vanno per il sottile. Devo fermarli prima che qualcuno muoia. Sono tutte. Accidenti, la banda al completo. Resta ancora qualcuno. Ok, va bene, d'accordo. Amarrendo! Se parlo avrò uno sconto di pena. Tu inizi a parlare. La tipa con i capelli bianchi. Ci ha detto di venire qui e fare casino. Un'esca per polli. E il pollo sono io. Dove l'hai vista? Alla botega di Waverly. MJ, la sparatoria era un diversivo. Black Cat voleva attirare la polizia lontano da Waverly Street. Una delle altre famiglie del Maggia ha una base a Waverly. In figero, credo. Forse faccio in tempo a raggiungerla. Felicia non agisce d'impulso. È una tipa metodica. Ah, davvero? Ti tengo aggiornata. Ecco la botega. Ok, Felicia. Dove sei finita? Ah, asfalto per tetti. Devo salire, quindi. Era appostata qui. Che cosa stavi osservando, Felicia? Centro. Salta, regnetto. Felicia, il Maggia non scherza. Giocare con loro non è... Ah, ma a me piace giocare. Spider-Man sta aiutando la gatta. Prendiamolo! Spider-Man, staccare! Non salpiamo a conclusioni affrettate. Non lavoro per Hammerhead o per qualche famiglia criminale. Ho un pessimo tempismo, tutto qui. Non salpiamo a non salpiamo a No! 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 È stato uno spasso. Dov'è finita Felicia? Mi piace spiarti. Mi riporta ai vecchi tempi. Che c'è sulla chiavetta? In realtà non ne sono del tutto sicura. E perché vuoi rubarla? Devo farlo. O uccideranno mio figlio. Aspetta. Come tuo figlio? Cavolo. Felicia ha un figlio. Impossibile. Oddio, no. È possibile. E io potrei essere... No, no, no. Non pensarci nemmeno. MJ, ho trovato la gatta. Ma è fuggita. Ah, sì? È una tipa metodica. Ha rubato un'altra chiavetta. Quindi ogni famiglia ne ha una. Mi chiedo cosa contengano. Scoperto altro? Ehm... Beh... Non molto. D'accordo. Sembra stia assistendo Amered nella sua scalata al potere tra le famiglie. La situazione potrebbe precipitare. Questa città non ha bisogno di una guerra tra bande. Se scopro qualcosa sulle chiavette ti avviso. Ciao, Spidey! Sono la tua fan numero uno! Aspetta. Scrooble! Non dirmi che sei uscita di prigione. Certo che sì! E ho portato con me diversi ammiratori. Oh, non sono carini. Mi stanno aiutando ad organizzare un nuovo show. In effetti, potresti fare un salto. A dopo! Qualcosa mi dice che non li hanno rilasciati per buona condotta. Meglio dare un'occhiata. Direi che è ora di rimettere dietro le sbarre il fan club di Scrooble. Ehi, ma non ti avevo già arrestato? No? Beh, c'è sempre una prima volta. Come sempre, Scrooble usa gli altri per sbrigare il lavoro sporco. Ma cosa stavano facendo esattamente? Spider-Man! Non è stato emozionante? Il lancio ideale per il mio nuovo show! Con protagonista... Te! Scusa, ma ho l'agenda piena! Eh, scommetto che troverai il tempo. Perché se ti rifiuti, i miei fan si arrabbieranno e qualcuno morirà. Ha ha! Io vado matta per i reality show. Tu no. Cosa non fa la gente per qualche click? Spidey! Sai cos'è un generatore elettromagnetico? Te lo spiego come al mio gatto. Se non disattivi quelli in città, una corrente salta. Oh, e se non li blocchi nel giusto ordine. Stop! Meglio sbrigarsi. Scommetto che uso un ripetitore a segnale binario. Forse posso collegarmi per visualizzare il percorso. Devo usare la tela. Ricordo i bersagli da fotobombare. Sì! 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 Uno è andato. Bene così. Sì! 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 3247 scrive. Non ho mai visto spidey andare così veloche. Confermo. Deve essere l'adrenalina per la diretta in mondovisione? Bella questa! Ah, la classe non è acqua. Wow! Guarda quanti nuovi follower! Grazie, Spidey. Ehi, Peter. Forse ho trovato il prossimo bersaglio di Black Cat. Sul serio? Come? Secondo i rapporti della polizia, si è appena verificata una rapina nel suo stile. Ti invio la posizione. Ehi, se la incontri, non farti fregare, Sporta. Sì, starò in guardia. È che... non lo so. È come se lasciasse dietro di sé una scia di sventura. Una gatta nera che porta sfortuna. Troppo telefonata, Pete. Posso disattivarli con la tela. Autobombing in arrivo! Sì, sì, sì! Disattivato. Ora devo trovare il prossimo. Autobomb! È il momento. Derrick Dunks scrive... Miglior video di sempre! Punto! Grazie, Derrick! Me... felice! Mk3247 scrive... Non ho mai visto Spidey andare così veloce! Confermo! Deve essere l'adrenalina per la diretta in mondo visione! Foto-Bomb! Foto-Bomb! È il momento! Per chi sta seguendo? Se vi piace lo spettacolo, allora iscrivetevi al mio canale! Oh, sì! Continua, Spidey! Con tutti questi iscritti potrei quasi iniziare a monetizzare! I miei forno sono a cassa di Troll! Vediamo che succede quando ne trovano uno. Meglio non scoprirlo e spedirli in galera. È quello il loro posto. Che accidenti è? Ritmo! Finalmente! I miei spettatori lo adoreranno! Hai trappolato, Rika! Ah! Quella morte è appena valsa! Tanto condivisioni! Non lasciatevi sorprendere! Oh! I migliori fanno il mondo! Guarda in quanti si sono presentati! Deva! Zii! 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 Non passo a colpirlo in volo! Se sei furbo, scappa! Non passo a colpirlo in volo! Non passo a colpirlo in volo! Non passo a colpirlo in volo! M'è vincu! Grande! Passavo tendenza! Non facci con me! Andiamo! Chi ha da andare a ragione! Vediamo questa storia! Me, felice! Dannati giocattoli! Il mio grilletto è più veloce di te! Che diavolo? Aia! Fan con Spidey! Poco per i miei fan! Che diavolo? Sto per guadagnare una marea di nuovi follower! È il momento! Testiamo la tua soglia del dolore! La città è nostra ora! Mi volerò più che non sarai morto! Ma che schifo! Arrivaro! Granata! Ehi, ehi! Se siete appena arrivati, non dimenticate di iscrivervi al mio canale! Pazzerone aline! Fado Bomb! Così! Nuovo record di visualizzazione! Fammi vedere che sai fare! Ehi, attenzione! Una di meno 50 like guadagnati! Tornati! Hai avuto abbastanza! Ha ha! Non è leo! È triste che sia soddisfatto per aver superato la sfida di un folle! Temo di sì! Oh, M! G! È stato troppo mitico! Questo diventa virale! Sicuro! Ehi, testa di tela! Pronto per un episodio speciale? Grazie ad un simpatico Troian che ti ho installato nella tuta, potrai usare solo tu e dei tuoi meravigliosi gadget! Mi sa che devo giocare secondo le sue regole. Ma che... Forza! Abbassili come birilli! Questa sì che è roba di qualità! Ti ucciderò! Dove prende quel gi... Se sei furbo, scappa! Forza! Dobbiamo prenderlo! Spidey! Spidey, tieniti pronto per il photobombing! Bravo, Spidey! Gigi! Wow! Quanti like! Continua così, Spidey! Spidey! Stai decimando! Svegliatevi! Oh, guarda! Photobomb! Ti conviene fare in fretta? Non faccio vedere! Fai di! Facci sognare! Oh, oh, oh! I fallo stanno incontrando! Me... Felice! Le vius vanno carando! Prosto! Usa due gadget! Facci da dire! Fai di! Non fai me! Non fai me! Fammi vedere che sto a dire! Quello cos'è? Vuoi morire per caro? Faccio il mio partito! Verrà morire di finire un appetito! Sarò sincero, sono soddisfatto della mia prestazione. Stanno arrivando fiumi di commenti! Sono tutti impazziti! Spidey! Sei il numero uno. C'è qualcuno lì! Oh, ora mi piace, Spidey! Ci voleva proprio una scena d'azione. Se nessuno mi rinchiude... Quella mossa è appena valsa tanto condivisioni! Non è vera! Ora ti faccio vedere! Oh, i migliori fanno il mondo! Guarda in quanti ci sono presentati! Ma che diavolo! Autobombing in arrivo! Vieni qui, piccole! Mi la farò pagare, cara! In me, felice! Basta! All'attacco! Grande! Passiamo tendenza! Sto facendo progressi! Prendi questo! Rimorchiamola a terra! Brava calentino! Avanti! Facciamo festa! Se qualcuno dei miei fan pensa di poter sconfiggere Spidey, si faccia avanti! Ti farà male! Sei troppo lento! Sto per guadagnare una marea di nuovi follower! Falli già su! La città è nostra! Forza! Dobbiamo prendere! Che ci fanno qui questi? Ah, face palm! Ah, perfetto! Sgherri del Maggio in ferociti! Oh, guarda! Fotobombo! Ti conviene fare in fretta! Hai scelto il giorno, sbagliato! Sono entrato! Sopra di noi! Ehi, ehi! Se siete appena arrivati, non dimenticate di iscriversi al mio canale! Ehi! Poli già su! Preso in pieno! Anche alle tele! Ah, no! Bomb! Uno di meno! 50 like guadagnati! Ah, la classe non è acqua! Oh, sì! Continua, Spidey! Con tutti questi iscritti potrei quasi iniziare a monetizzare! Bravo, Spidey! Spider-Man! Il mio show è un successone! E non immagini cosa ho in servo per la prossima stagione! E non dimenticare! Scrub lolla e ti trolla! Ah, che tipa fastidiosa! Dovrebbero nerfarla!